Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve tutti ragazzi e benvenuti in questo quindicesimo episodio della Challenge Lock a Pokémon Heart Gold Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sgominato definitivamente Team Rocket sconfiggendo Arkane Di fianco a me, cioè non proprio di fianco a me ma vicino a me potete vedere Luminion, ossia il nostro Jake che non ho ancora rinominato ma lo farò presto Ho già in mente il soprannome però lo chiamiamo Jake che è qui con noi ma ragazzi probabilmente io per la Challenge ho paura che non rimanga Perché? Allora, la Challenge di oggi consiste nel ogni volta che incontrano un Pokémon selvatico come cattura Quindi in questo episodio dovrebbero essere due, dovrò far mandare capo un mio Pokémon Se poi la cattura avrà successo io potrò ottenere sia il Pokémon catturato che il Pokémon che è morto In pratica farlo tornare in vita Se la cattura non ha successo lo prendo in culo perché il Pokémon morto rimane morto E la cattura è andata Ragazzi, YouTube ha mandato a puttano un'altra volta i feed e i feed appunto non sono arrivati E la serie ha subito un calo drastico quindi vi invito se YouTube fa andare bene sto video per piacere Di lasciare tantissimi mi piace per riportare questa serie dove merita di stare Dove volete che voi stia perché alla fin fine ragazzi la serie sta andando bene solo grazie a voi Detto ciò io sto registrando col raffreddore e sto morendo dentro Tipo c'ho la peste che si sta diffondendo Quindi vi invito a lasciare un mi piace anche per questo Io ho tante Pokémon ma io ho paura veramente di incontrare tipo un leggendario Un qualcosa del genere, no veramente Per scaramanzia lo faccio nell'acqua Le catture in acqua non le faccio mai perché ho sempre paura di trovare Pokémon fortissimi Qua voglio trovare un Pokémon scarso e catturabile facilmente Mando a morire Jake per il semplice fatto che è il membro più giovane e deve farsi un po' di Ok 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 allora devo trovare un modo per non ucciderlo e per far morire Jake Non so come farò ci proviamo Quanto cazzo gli ho fatto madonna Eh vabbè sì ma non ce la farò tipo mai Non ce la posso fare a perdere un Pokémon cioè obiettivamente è impossibile Allora potrei banalmente fare così Non lo faccio morire letteralmente il Pokémon mio Lo lascio così e se la cattura non va diciamo a buon fine lo considero morto Mettiamola così se no ci mettiamo davvero troppo Faccio questa piccola deviazione alla challenge Inoltre ovviamente se la cattura non andrà a buon fine a prescindere il Pokémon schiatta comunque E quindi ho paura di toccarti brutto stronzo Allora Per fortuna Mantaic non dovrebbe essere un problema da prendere Quindi Mega Ball ignorante No quasi Bolla ti prego devi entrarci non posso neanche dire per esempio fugo non lo voglio catturare perché altrimenti mi schiatta Jake Dai cazzo Cosa sta facendo Ultra Ball Entraci Dai Ero attacco guardalo Oddio Mi ha fatto malissimo Tra l'altro sì L'ho allenato solo al 31 ma Ho una scusante Minchia raga mi sto facendo malissimo Ho una scusante ragazzi Perché io l'avevo allenato fino al 36 ve lo giuro E poi il gioco ha deciso di mandarmi a puttani salvataggi E quindi mi è rimasto al 31 Per fortuna non è tornato indietro Ok ce l'ho fatto Ce l'ho fatto Ce l'ho fatto Ce l'ho fatta Acqua volante Mai Non chiedetemi mai perché Non ne ho idea Ehm Allora Pokémon Aquilone Ehm Io potrei fare il simpatico No però No è femmina Se no lo chiamavo Falcone o qualcosa del genere Ehm Oddio come si chiamava quel Quel libro famosissimo Tipo Ehm Paper Kite Una roba del genere Tipo Aquilone di carta Sapete che non ricordo Ehm Non ricordo se era Aquilone di Io lo chiamo Paper Una roba del O forse mi sto confonendo con una canzone dei Nirvana Vabbè Io lo chiamo Paper Se non sbaglio era qualcosa del genere Aquilone di carta Ma non penso che sia così il titolo in italiano Sapete Era il film di quel ragazzino tipo indiano Ora non l'ho mai visto Però me ne hanno parlato tanto Comunque in ogni caso ragazzi La prima cattura è andata Non ho perso nessuno Quindi io mi vado a curare subitissimo Tra l'altro questa challenge ha raggiunto tipo 28 like Una roba mai vista sotto Cioè neanche i miei commenti raggiungono 28 like Quindi Figliolo Complimenti Hai avuto evidentemente un'ottima idea Possiamo proseguire Il gioco la ghicchia un pochino Ma questo ragazzi Per il semplice fatto che sono tornato dalla Francia Il computer era letteralmente spento Cioè proprio morto Da due settimane E purtroppo deve riprendersi un attimino Quindi ragazzi Allora Speriamo di portare Jake a un livello un pochino più alto Durante questo video Ma soprattutto speriamo che rimanga in vita Perché se schiatta è un problema Vincerò io di sicuro Cioè spero di no Per me più che altro Perché ok Frostlass livello 27 Allora Questo Jake ragazzi Ha un'abilità molto particolare Ossia macro forza Che gli permette di aumentare il suo attacco fisico E quindi Ha tipo un attacco speciale Che è alto di suo E poi c'è un attacco fisico Che è potente Quindi È un ottimo pokemon L'ho scelto principalmente per questo Se ti aumenti qual... No Prendilo Ok Perfetto No perché veramente Quando si aumentano l'illusione È un fottio Signori miei Lord Elix Ma schiatta Perché Non gli ho fatto nulla Eh se non ti ho fatto nulla Con una mossa fisica Allora Ok perfetto Avevo un'ottima difesa fisica Peccava leggermente Ma proprio poco poco In difesa speciale Pianta di Ghicocchi Che vorrei tanto fossero randomizzate Tipo per fare delle cose divertenti Tipo Tir fuori la Ghicocca rossa Ghicocca puati Viene fuori La bacca rom Attenzione Incredibile La bacca preferita di Salvini La bacca rom Mi piace Ok perfetto Cioè no in realtà no Perché dovete sapere Che poi queste Queste bacche qua Si trovano molto In tipo Degli angoli Rotture Di particolari Centri commerciali Italiani Sparatemi In questo momento No raga mi fa paura Semaforo raga È Terrificante Voi sapete Come si è preso male In questa challenge E io Guardalo Mi fa malissimo Marte il pugno muori Eh non gli ho fatto nulla Ingano forza cosa vuol dire Se scambi attacco e difesa Cosa vuol dire Aiuto Ho paura di me stesso Fermi Ok Volendo potrei utilizzare Rosso clava con lui Aia Aia Psicoslancio Fa malissimo Fermo 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 No Dopo uno Non deve bestemmiare C'è Dai Ma figa Era fortissimo Brutto colpo No cioè Veramente Sale Sale Il Chi cazzo Metto in squadra Ditemi Chi metto in squadra Adesso C'ho tutti i cancri Nel box Tutti dal primo Adesso andiamo a vederli Tutti i cancri Allora Deposita Deposita Cynthia Box Questo Perfetto Va che bellezza Tutti schiattati male Adesso Vi faccio vedere Il cancro Che c'ho Nel box Allora Andiamo un po' a vedere Jigglypuff Mantaic Questo qua che ha l'abilità Normalità Tutte mosse di tipo normale L'utilità Incredibile E Chansey Chansey C'ho due Pokemon di tipo normale Che potrebbero essere relativamente buoni O c'ho un Pokemon di tipo normale Preghiamo nella cattura Alla grotta gelata Se no raga Boh Cioè cosa devo fare Mettere in squadra Mantaic Perché obiettivamente È l'unico Pokemon Di un livello abbastanza alto E che potrebbe Diventare tipo Tipo Forte Non ho parole Vigoroth No io con questi Pokemon qua C'ho veramente dei Dei trascorsi allucinati Devi morire Devi Guardalo Che non muore Non muore Non muoiono Non muoiono Cioè poi io Dopo ho finito sto video qua La febbre C'avete preso La febbre Sì perché Fermi tutti Dicevo Sì perché non ve l'ho detto C'ho anche la febbre Ma questi sono dettagli La febbre La febbre Pam pam Schizza proprio Il mercurio dal termometro Che prende Pi 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 Raggiunge Raggiunge la stratosfera Che non so se è in cielo Oppure se No quella sotto è la litosfera Ok perfetto Sand Slash Devi morire male Oggi ce l'ho con tutti Perché Veramente dopo Quanto Sarà stati dopo sette minuti E brutto colpo Mi schiatta il mio poco a migliore Ma non te lo do Il numero di telefono Ma Vai a pescare Altra gente Così Baccadurant Baccadurant È una formica Pokémon sotto forma di formica Baccacarciofo No Baccar Baccaracolo Baccaracolo Panfilo Cioè neanche la Baccaracolo Sa di essere una Baccaracolo Va bene È talmente utile Che neanche lei sa di esistere Electriva e Switch Svi Eh sapete quanto sarebbe stato utile qua Cynthia Stata utile Cynthia Perché obiettivamente è femmina E invece no Ovviamente mi devo beccare questo Che mi fa un male boia Dio Cav... Devo censurare Che sbatti Che sbatti Raga Non c'è voglia di Spararmi nelle gengive Io veramente Fulmine non farmi male Ok Psichico muori 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 Ok Meno male che abbiamo Fuji raga Che obiettivamente è una certezza Cioè veramente Non Io di sto poco Guarda che roba è assurdo Da quando ho imparato Psichico raga Non è più un Pokémon normale Vaffanculo Pescatore Merda Ok Devo andare a curarmi Perché quello lì mi ha tentato Di stuprare malissimo Ok Perfetto Siamo al centro Pokémon OBS Continua a dirmi Che sto registrando Troppo Con troppa potenza Ogni tanto Però vabbè raga Che ci devo fare Siamo a 5 Pokémon Io volendo No perché Non mi metto un altro Pokémon In squadra Perché poi Per la challenge Che andrò a fare Sarebbe troppo facile Prendere un Pokémon A caso scarso E utilizzarlo come cavia Quindi preferisco non farlo Proprio per Correttezza verso di voi Avete visto come è L'acqua al culo Lasciate i like Bene Dopo questa scena Tachioga Tachioga Sì Giustamente Questa è la La ricompensa Per la mia vita E poi Clay Fable Giustamente Perché ovviamente Devi avere proprio Un team equilibrato Con i livelli Cosa Perché questo Faidro Cannone Jake livello 32 Ok Ce l'abbiamo fatta Stavo dicendo qualcosa Di importante Ma l'ho dimenticato Evidentemente Non era così importante Si capisce subito Che ci sai fare Me ne intendo di Pokémon Ne so riconoscere Sì infatti Te ne intendi talmente tanto Che non sai che un Luminium In teoria sulla Terra Non potrebbe andare God Un altro eretico Un altro eretico Evidentemente Il culto di Eugenius Ragazzi Si sta veramente Diffondendo troppo Dobbiamo cercare di fermarlo Quindi Hashtag Eugenius Fermati nei commenti Mi raccomando Spaccate i commenti Che sono anche loro Buggati Tanto per raggiungerne un'altra A questa piattaforma Che non funziona E quindi non riuscirete A scrivergli i commenti Sappiate che Se io non rispondo Ai vostri commenti Non è che perché Sono stronzo Ma perché O non ho tempo Oppure semplicemente Il commento Io non lo vedo Perché è tutto Fottutamente buggato Ora fermi però Sta mandando Hypno Io mando Brazzerina Che in teoria Se non ricordo male Dovrebbe avere Perfetto Funesto vento Che fa Malissimo Proprio per un ca- No cioè io Spiegatemi io Come faccio Ad andare avanti In questa vita Come faccio Ad andare avanti Io mi cago Ogni volta addosso Specchio vero Ma con Gravità La gravità È la tua morte La gravità Della vita Proprio Pagato Allora Torniamo Velocemente indietro A curarci Bello quel fantasma Mi è piaciuto Davvero tanto Ragazzi Questo gioco qua Veramente Infonde sempre Queste emozioni Che davvero Mi sembra di essere Tornato Sembra il televideo Sembra veramente Sei in un centro Pokémon Sì 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 Rimettimi in sesto I miei Pokémon Che sono rimasti In cinque Perché è morta Cynthia Che era fortissima Vabbè Non è che ci possiamo Fare molto Proseguiamo In teoria Vorrei fare Tutta la grotta gelata Dovrei riuscire a farla Ho comprato anche Dei repellenti Quindi appena faremo La cattura E sceglierò Un altro Pokémon Come cavia Tra l'altro Non Jake Perché non è giusto Che faccia due volte lui Ehm Dicevo appunto Dopo la grotta gelata Ovviamente stopperemo E fatemi sapere Nei commenti Se volete vedere In un prossimo video Tutto il percorso A sud di Ebanopoli Sapete no Che c'è un percorso Intero Che ci porterebbe Da Elm Se non ricordo Sì da Elm In pratica E fatemi sapere Nei commenti Se lo volete vedere Oppure se lo posso fare Off camera Maniere forti Devi cercare di morire No sbadiglio Cioè veramente Io ti sbadiglio Ma ti scatarro pure Sul costato Oh bravo No 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 Cioè Non è possibile Veramente Che questo qua Prende e fa giudizio Non è una cosa concepibile Sì ti do il mio numero Di telefono A te sì Lo do per il semplice fatto Che c'è il giudizio E non vorrei mai Che te la prendi Mi scagli una botta Di quelle Che veramente Ci rimango secco Sul posto Già non sto bene Poi mi devono pure Scaraventare Contromosse a casa Siamo per entrare La grotta gelata Io vi giuro Che se viene fuori Un pokemon Che non riesco a catturare Bestemmio Allora Suocero Sei il più scarso Oddio Sapete che potrei No Metto strength Per un semplice fattore Che se schiatta lui Posso sostituirlo Con un pokemon Nel box Senza Rimorsi Insomma Via gelata Strength Sarai la mia cavia Aiuto Dai forza Vediamo chi trovo Non forte Non forte Non forte No Guardalo Questo qua C'è un catch rate Altissimo Che sbatti Aeroassalto Non morire Non morire Ok Barahonda Fermi Eh cazzo Io ho paura Ho tipo Quella caga immensa Di critare Quindi io gli tiro Un po' di ultraball No Non lo prenderò mai Sì 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 Gesù Grazie Gesù Grazie Likitung Come lo chiamo Questo qua Linguaccia Fa le linguacce Lecca Ehm Ehm Lecca Quindi lo chiamo Ciuppa Lo chiamo Perché c'è Lecca Lecca Ciuppa Ciups Tipo Sì Uccidetemi Ciuppa Va bene così Va Va Benissimo Così Ok Ok Challenge superata Tra tutte le sfighe di questo episodio la challenge è andata bene Devo essere sincero Non me l'aspettavo Detto ciò Repellente E andiamo a fare abbastanza velocemente sta via vittoria perché non è che ci rimanga tutto sto gran tempo ragazzi ci abbiamo messo 40 anni a catturare tipo i pokemon a bestemmiare a fare tutte queste cose belle no Allora qua se non sbaglio c'è questo punto qua che da piccolo non riuscivo mai a fare ma in realtà è abbastanza semplice se non sbaglio cioè dovrebbe essere tipo così Ok perfetto qui abbiamo la mn che contiene cascata che è indispensabile per proseguire poi nel gioco se non ricordo male si perché bisogna andare alle cascate tojo e se non avete cascata le cascate tojo evidentemente non potete salirle Ok perfetto questo qua ci dirà che la mn era sua ma ce la regala perfetto si ve la sto facendo molto svelta perché dopo ci sarà Non ci voglio pensare Eccolo Io odio profondamente questa parte di gioco Oh cristo madonna mi sono buttato come un cetriolo morto Fertil dildo Fertilidro Perché raga perché Cioè non è che ho fatto chissà cosa di male per meritarmi queste cose Ma io dico ma non è che sto chiedendo una master ball ma uno strumento che io possa usare Cioè veramente non ne ho ancora trovato uno di decente forse Dimmi che ho forza Dimmi che non bestedi Ditemi poi che uno non deve bestemmiare Ditemi Allora insegniamo e insegniamo forza a strength raga Giustamente bisogna essere coerenti nella vita Dove sei? Ok tanto dovrei avere la compatibilità con ogni pokemon esatto Poi volendo potrei insegnarla anche a ciupa ma preferisco dare a lui che tanto c'è a tritartiglio Quindi a sto punto tanto vale che io gli do forza che è uguale praticamente Ok perfetto Allora Fatemi studiare un attimo la situazione In teoria se io faccio così Ma tipo in teoria Ok perfetto E uno è andato Ottimo Ora li dovrò buttare giù tutti ragazzi ovviamente perché game freak C'è proprio quel vago sentore di mamma puttana che Che non tramonta mai Questo qua dovrei fare in teoria così Puoi fare in qualche modo il giro Tipo E arrivare a prenderlo Però sinceramente come? Non lo so in questo momento Finito l'effetto del repellente Lo riattiviamo? Non vedo il problema Ora devo cercare di essere Di stare più che altro concentrato Perché altrimenti Eh ma cazzo ma cadendo Minchia non ci ho pensato Cadendo cambia Cioè ritorna normale là Qui ho fatto una boiata di proporzioni Cataclismati oserei dire Allora aspettate Riproviamo un attimo Secondo me è la cosa giusta da fare Perché poi dopo facendo il giro In teoria dovrei riuscire a passare da quella parte lì Anche banalmente Senza buttare giù i massi Cioè sono più che altro stronzo io Che ho fatto una puttanata Ok perfetto Perfetto Sì ci ho visto giusto anche qua Quindi qui E poi qui Perfetto ragazzi Stiamo andando relativamente bene Di solito ci mettevo di più Per capire ste cose Però è anche vero che non gioco A Earth Gold e Soul Silver Da quando ho aperto il canale Tipo quindi due anni fa Ero ancora stupido e ingenuo Però questo non so ancora come si faccia Allora Secondo me dovrebbe essere così in teoria Poi vado di qua E poi in teoria Spingo Allora Uno due Tre Qua faccio così E poi Qua si va così Perfetto Ok questo è andato Questo sarà già un problema Perché obiettivamente Non mi ricordo proprio nulla Allora Calma Vorrei dire una stronzata Ma Dovrebbe essere Tutto così E poi si Fare il giro di qua Ok perfetto Ok mi stavo cagando addosso E ho detto che minchia è sta puttanata Invece Era repellente Uh Eh Marip avrei potuto Tra l'altro un altro stronzo Di tipo normale Ho trovato come cattura Sapete che non ci ho pensato Ma sapete che volendo ci sarebbe la cattura dei banopoli Volendo potrei fare la cattura dei banopoli Io potrei rischiarmela Perché Se la faccio in questo episodio Potrebbe voler dire Potrebbe voler dire Banalmente perdere un pokemon Se la faccio nel prossimo Mi toccherà Per ovvia ragione Affrontare la palestra Con 5 pokemon Perché non è che posso Stoppare l'episodio E mettermi ad allenarli In diretta Sennò veramente Vi cadono i coglioni No Devo riflettere su sta cosa Perché obiettivamente Non ci ho pensato E tra l'altro Io non so Come cazzo si va Lì adesso Forse era questo qua Un problema che Non ho per nulla valutato Tipo qui Tipo qui Tipo qui Ok perfetto Dimmi che è qualcosa di utile Grande fungo Il grande fungo Sembra il grande puff Ragazzi abbiamo trovato il grande puff Ora qua sinceramente Non ricordo come si Percorresse questa strada Ma in teoria non dovrebbe Oh Ma vaffanculo Sentito un verso strano Pensavo che Ok repelle Oddio Ma vedi Perché non potevo trovare sta gente Che Camerapt non è impossibile da catturare No Lichitungo ho trovato Tutti i pokemon di merda Carburante Perfetto Eh questo qua Perlomeno posso venderlo Dai te lo concedo E nulla ragazzi Io Penso di rischiarmi la cattura Ad ebanopoli Nonostante tutto Utilizzerò come cavia In questo caso Suocero Però si Mi sa che Mi conviene Stri Cioè no davvero Stridio Stridio Che mossa è Stridio Ma Neanche Stridio Fermi Allora qua c'è Una cosa Caruccia da fare Che questo giochino qua È abbastanza infame Ossia così in pratica Vero Tipo così Per poi andare a prendere Quello strumento che Io mi ricordo tra l'altro ragazzi Nella Soulink Era una master ball Qua è diventata una Lumine polvere Ovviamente E tra l'altro Forse dietro c'era pure Un'altra strada Che non ho visto Questo posto qua Mi affascina tantissimo Quindi Ah ok No perfetto Era totalmente inutile Scherzavo tantissimo Quindi torniamo di qua Proseguiamo Siamo quasi arrivati alla fine Tra l'altro Poi dovrebbe esserci Una kimono girl Sul Verso l'uscita Però Noi ce ne sbattiamo altamente Questo qua cos'è? Una palla a fumo Oh vi giuro che non ho trovato Uno strumento decente Buongiorno Io a lei dovevo spingerla Tipo Ma non mi ricordo come Sì Velocemente Velocemente Sai che non mi interessa So quello che devo fare Ti devo prendere Ti devo spingere Devo anche trovare il modo In realtà Forse Forse Un'idea ce l'ho Allora Uno due tre Quattro Perfetto Dovrebbe andare bene Vai Sì perfetto Sbonk Esatto Si fa proprio È il tipico verso Di quando spingi una persona Ora Questo non mi ricordo come fosse Ma Ok Perfetto Voglio prendere quello strumento No perfetto Dupardeball Devo cercare di arrivare lì Quindi Forse potrei fare tipo Così Non è vero Proviamo qua Devo cercare di arrivare tipo Attaccato a quel coso lì Però Sinceramente Non so come fare Ok Forse l'ho capito Uno due tre Perfetto Fiammosfera Questa qua addirittura mi scotta Perché le sfighe non sono abbastanze Devo farmi addirittura scottare dalla fiammosfera Grazie esistenza Ok Perfetto Devo solo capire come si esce E Attenzione attenzione Non lo sto capendo Cioè veramente Io prima Ero Prima Io ero Fottutamente Uscito Ero uscito E adesso Evidentemente Non riesco più a uscire Ok Ce l'ho fatta Perfetto Fuori da qui Dovrebbe essere tutto a posto Questo qui non mi rompe le balle Perfetto Posso andare a curarmi Finalmente Siamo a 23 minuti Io contavo sinceramente Di registrare due episodi Ma Alla luce della morte Alla luce della morte Del nostro Cynthia Dovrò fare del grinding in mezzo E quindi non riuscirò Per ovvie ragioni A portare A registrare subito Un secondo episodio Ora Come vi stavo dicendo Io Oltre a prendere delle pokeball Perché non voglio rischiare Rischio La cattura Perché Ho assolutamente bisogno Di un altro membro Perché la palestra Di sandra È difficile Ve lo posso assicurare Me la ricordo Abbastanza bene E utilizzerei come cavia Suocero Anche se gli voglio bene Ma utilizzerei come cavia Suocero Perché gli altri Sono davvero troppo importanti Anche se il suocero Sarà difficile da sostituire Ma io Non è che abbia molta scelta Ricordatevi ragazzi Di dirmi nei commenti Se volete vedere Il percorso a sud Il percorso a sud Di ebanopoli Ovviamente la cattura La faremo qua L'acqua Con colore azzurro intenso Vuoi utilizzare surf A male in cuore Non C'è Buono Buono Ma catturabile Buono ma catturabile Non voglio guardare Oddio Beh Beh io in effetti Ho detto Buono E catturabile Cioè Ti pilota E non ne ho io In squadra Quindi Boh Potrebbe anche essere buono Raga volendo Non me la sento Di indebolirlo Non me la sento Proprio di indebolirlo Sarò sincero Io ho visto che ha fatto breccia E non è molto efficace No 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 C'è l'abilità normalità Anche lui Non ci credo Che ha l'abilità normalità Veramente Non voglio Crederci Come lo chiamo io sto coso Lo chiamo E abilità normalità Io lo chiamo Mister Satan Vaffanculo Stronzo Guardatelo Se non ha l'abilità normalità Mi Ci scommetto il canale Mister Satan Se non ha l'abilità normalità Voglio 50 dislike Mister Satan Io l'ho detto Guarda ho fatto la stronzata Adesso c'è un'abilità Che è uguale Ma diversa Dai Perché Era pure Guarda Giusto Era buono Si poteva fare Guardalo se non c'è l'abilità normalità Perché O il gioco è buggato O ha l'abilità normalità Perché breccia Non era molto efficace Sul mio pokemon Non ci credo Cioè adesso ditemi io chi metto in squadra Veramente Fan tutti cagare Tutti Dal primo all'ultimo Non ce n'è uno buono È allucinante Io mi sa che vado di lui Vado di lui Anche se è un altro tipo acqua Ma io vado di lui Fatemi vedere un attimo Tipo le statistiche Robi del genere Fermi E porca madosca Che schifezza Però ha incantevole Come abilità Che buona Normalità Normalità Antifuoco Potrebbe tornarmi utile Si però guardate le statistiche Raga Questo qua gli sputi addosso Ho caricato Anti ps Raga Però io veramente Non Poi ho già strength Non so Penso di mettere in squadra Mantaic Non penso di Di fare altro Nulla ragazzi Io spero che questo video Ti sia piaciuto A me non è piaciuto Se è così Vi invito a lasciare un bel mi piace Un commento qui sotto Rispondendo alla domanda del giorno E un'iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando Passate i social in descrizione E premete la campanella In alto a destra Per rimanere sempre aggiornati Sui feed del canale Detto ciao Noi ci becchiamo In un prossimo video